E' un bilancio pieno di ombre, quello che fa Lance e l'associazione costruttore di Lidi Teramo. Sono passati quasi due anni dal sisma e il ritardo nei pagamenti delle opere pubbliche stanno mettendo a dura prova le imprese che rischiano di fallire. Il presidente Raffaele Fallone punta il dito soprattutto sulle opere appaltate dalla provincia di Teramo dopo il terremoto e la nevicata di gennaio 2017. Su 20 milioni di euro affidati dall'ente nel 2017 mancano all'appello 11 milioni di euro, ritardi burocratici a causa di rendicontazioni che la provincia deve inviare alla protezione civile e le cui modalità vengono cambiate in continuazione. Il problema è che moltissime imprese rischiano proprio il fallimento, rischiano di fallire perché la provincia è stata brava ad appaltare 21 milioni di euro di lavori. Però poi non è stata altrettanto brava, quantomeno ci risulta a rendicontare perché noi ancora non riusciamo a capire le cause da dove derivano per questo ritardo dei pagamenti perché non riusciamo a capire perché non ce lo dicono se dipende dal cor, se dipende dalla provincia o se non ci sono i soldi. Il fatto sta che noi più della metà dei soldi ancora li dobbiamo incassare. Sono circa 10 milioni di euro, sono tantissimi, a distanza di un anno e mezzo, quasi due, le nostre imprese non riescono ancora a prendere soldi. Passaggio accorato del presidente del lancio di Teramo anche sui ritardi della ricostruzione privata 2016. Per Falone c'è bisogno di nuovi stimoli e di molte più risorse organizzative per ripartire. La nostra regione è l'unica regione che ha il problema della sovrapposizione del sisma 2009-2016. Non ci sono ordinati che disciplinano in maniera chiara e netta come gestire questa sovrapposizione. Mancanza di personale. All'ufficio speciale di Teramo ci sono 29 persone assunte con contratti ballerini, con contratti disomogenei. E poi sulla ricostruzione, un ultimo appello dell'Associazione Costruttori Edili di Teramo a tutte le forze politiche. Senza una scossa del sistema, molti paesi terremotati scompariranno.